Sono Daniele Carradori. Il cognome dello psicanalista di mia moglie? Sì. Lei è il figlio di Letizia Calabro e Probo Carrera, sposato con Marina Molitor. Sì. Allora, ho ritenuto la situazione di Marina molto grave. È vero che lei è sempre stato innamorato di Luisa Lattes? Noi ci vediamo, ci scriviamo, ma non è una relazione. Ma soprattutto non è infideltà coniugale, è una cosa nostra che non saprei neanche come definire. Mi dispiace doverglielo dire, ma il suo matrimonio è finito da un pezzo. Non l'ho mai amata, ho sempre amato quell'altro. Sei il paragone di ogni relazione che ho avuto. Ma siccome la nostra non esiste, vince, vince sempre. Se sono scappato, l'ho fatto nella direzione sbagliata. Non è che sai sempre dove fai bene e quando fai male. Scolari, nel male, tu. Ma tu del male. Per 40 anni ti sei stata la prima e l'ultima immagine che ci ho avuto ogni giorno. Per 40 anni. Non sono mai stata felice con te. Non sono mai stata fedele. Tutti poveri tranne io. Sei davvero il colibrio? Di tutta la tua energia per restare dove sei. Pensi davvero che questo sacrificio cambi qualcosa?